Grazie a tutti. Nuova puntata del ciclo di catechesi, il dono della divina volontà, siamo giunti alla quarantesima puntata, anche oggi con l'aiuto del Signore cercheremo di vedere alcuni nuovi brani tratti dall'antologia, dei brani scelti per quel che concerne la maggiore comprensione di alcune meraviglie, di alcuni aspetti straordinari della vita nella divina volontà. Oggi facciamo un passo per certi aspetti indietro, andando nei primi volumi, vedremo un brano dell'ottavo volume e forse se poi ci sarà anche tempo, non essendo molto lungo, anche del nono volume, assai significativi e che tra l'altro anche molto adatti, e sicuramente il primo come vedremo al contesto pasquale in cui cade questa puntata. Io direi di non cedere troppo con le introduzioni, passando immediatamente alla lettura del primo dei due brani e al suo commento. Siamo nel volume 8, 5 aprile del 1908, ecco, è il capitolo 33, questi primi volumi hanno anche la suddivisione, oltre che per date, anche in capitolo. Comincio la lettura. Stava la parola Fiat. E da quella parola scendevano tanti diversi, interminabili, mari di virtù, grazie, grandezze, gloria, gioie, bellezze, ed il tutto che nell'assieme contiene la nostra regina mamma. Sicché tutte erano radicate in quel Fiat, e dal Fiat avevano principio tutti i suoi beni. O Fiat onnipotente, fecondo, santo, chi ti può comprendere? Io mi sento muta, è tanto grande che non so dire niente, perciò faccio punto. Onde io la guardavo meravigliata e lei mi ha detto Figlia mia, tutta la mia santità è uscita da dentro la parola Fiat. Io non mi smuovevo neppure per un respiro, né un passo, né un'azione. Tutto, tutto, se non da dentro la volontà di Dio. La mia vita era la volontà di Dio, il mio cibo, il mio tutto. E questo mi produceva tale santità, ricchezze, glorie e onori, ma non umani, ma divini. Sicché quanto più l'anima è unita, immedesimata con la volontà di Dio, tanto più si può dire santa, tanto più è amata da Dio. E quanto più amata, più favorita, perché la vita di questa non è altro che il riprodotto della volontà di Dio. E può non amarla se è la sua stessa cosa? Sicché non si deve guardare al molto o al piccolo che si fa, ma piuttosto se è voluto da Dio. Perché il Signore guarda il più piccolo fare se è secondo la volontà sua che è il grande senza di questa. Ecco, queste sono parole della Madonna in persona, e quanto mai attendibile che lo siano, perché sono davvero qualche cosa di straordinario. Io adesso certamente faremo un commento come Dio vorrà, quindi sicuramente è limitato, ma ogni singola riga e ogni singola sillaba delle parole che abbiamo ascoltato sono assai significative. La parola Fiat, questo globo di luce risplendente nell'interno della Madonna, è la sorgente, è quello che abbiamo ascoltato, di tutti. I mari delle virtù, delle grazie, delle grandezze, della gloria, della gioia e delle bellezze. Quindi non si può neanche concepire la figura della Madonna distaccata da questa parola che è un po' anche, diciamo così, il suo emblema, ecco perché il Fiat fu pronunciato in maniera non udibile da orecchie umane, come sappiamo nella creazione della Santissima Trinità, ma fu pronunciato da labbra umane al momento in cui la Madonna rispose all'Arcangelo San Gabriele, quindi facendo fuori uscire da sé quella che era la sua vita. La cosa sconvolgente, lui si dice io mi sento muta, è tanto grande che non so dire niente, è quello che proprio la Madonna qui spiega, non un respiro, non un passo, non un'azione. Cioè, qui la nostra mente credo che si che si perda e credo anche che si interrovi, no? La Madonna non disse come è possibile, come si traduceva una volta malamente, ecco, il dialogo con San Gabriele, ma dice come avverrà questo dal momento che non conosco uomo, no? Ecco, però noi che siamo un po' più piccoli della Madonna, pensando a questa cosa, almeno a me viene da pensare, ma com'è possibile neanche un passo, neanche un'azione, neanche un respiro. Quindi questa questa unione, questa connessione, questo raccordo, come dire, imperituro, quindi la Madonna non faceva un passo se non perché quel passo era volontà di Dio e se non nella volontà di Dio. Quindi ricordiamo sempre il doppio binario su cui scorre la vita nella divina volontà, no? Cioè una cosa si fa perché è volontà di Dio e se non è volontà di Dio è bellissimo quello che dice, no? Dio non guarda la cosa grande o la cosa piccola. Cioè se tu accendi un cerino o se fai una disciplina a sangue, perdonatemi l'esempio un po' crudo, non molto adatta al contesto della settimana in Alvis, perché ecco queste cose non si dovrebbero mai fare nella settimana in Alvis, cioè se quel cerino Dio vuole che tu l'accendi e quella disciplina, questo gesto eroico, insomma ascetico, non vuole che tu lo fai, quel cerino acceso e gradito sui occhi, quella disciplina, no, ma come? Ho avuto il coraggio di fare una cosa così impegnativa, che hanno fatto i grandi santi. se Dio da te quella cosa non la vuole o non la vuole adesso, quella cosa non ha nessun valore ai suoi occhi. quindi deve essere volontà di Dio, deve essere nella volontà di Dio e poi ricordiamo sempre il perché, il per chi, cioè perché io muovo quel passo, con la retta intenzione della gloria di Dio, la salvezza delle anime, per chi? per amore di Dio solo. cioè su questo la Madonna era veramente, come dire, in superambile, cioè la Madonna non ha mai fatto una sola cosa, neanche una, per, come dire, amore di una semplice creatura umana, per esempio, non l'ha fatto, o per proprio interesse, o per proprio tornaconto, o perché così gli girava, insomma, no? Non l'ha fatto mai. E quindi comprendiamo, avendo questa, perfezione assoluta che ci abbiamo dinanzi, e la Madonna ricordiamo sempre che è una creatura umana, che se completamente divinizzata, ma completamente divinizzata perché viene il Fiat, ma è una di noi, quindi non è, e, non diceva, ci abbiamo dinanzi, il nostro Signore Gesù Cristo, è il Figlio di Dio, è chi ci arriva lassù, ecco, la Madonna è una di noi, in altri passi degli iscritti, poi Gesù, l'ho letto proprio nei giorni scorsi, a un certo punto si rivolge a lui, si dice, guarda che ho scelto anche te, per, che se era più piccola, tra le che tu esiste, per ovviare un'altra obiezione che potrebbero farmi i miei figli, dice, vabbè, il nostro Signore Gesù Cristo, non ci possiamo arrivare, ma non possiamo arrivare neanche alla Madonna, perché è vero che è una di noi, però, è l'Immacolata, quindi, chi ci arriva a quelle vette, e allora ho scelto te, allora queste cose che noi qui leggiamo, le ha vissute già, ebbene, una creatura umana, segnata dal peccato originale, come noi, quindi, veramente come noi, e Gesù apposta ha voluto, che ci fosse, una creatura emblematica, ecco, quindi una, e conosciuta, che potesse giungere, ad una perfezione, di questo genere, perché nessuno si scoraggia, e dica, e chi ce la fa, e come facciamo, ecco, certo che, mettersi dinanzi a, non fare neanche un respiro, se non per volontà di Dio, cioè, che uno si dice anche, ma come si fa, noi sappiamo che per gli atti inconsapevoli, come dire, non si tratta di, di, di porvi, chissà quale, attenzione attuale, grazie a Dio, abbiamo l'atto preventivo, no? Ecco, e poi abbiamo gli atti attuali, io ricordo sempre, sapete che il senso di questa sezione, questa antologia, dei brani del divino volere, è, un po', vedere, anche in atto, tutta quanta la teoria, che abbiamo fatto, come dire, nelle catechesi precedenti, no? Quindi, se io dico, mi viene in mente, viene divina volontà nel mio respiro, come già la mattina, però, ho detto nell'atto preventivo, il mio respiro si muove nella volontà di Dio, certo, il respiro è relativamente semplice portarlo nella volontà di Dio, essendo un atto, come dire, di per sé stesso indifferente, già un passo, è un po' differente, perché che lo faccia fare, quel passo, dove vado con quel passo, perché lo sto facendo, quindi, quale azione mi prepara a compiere attraverso quel passo, o addirittura sto compiendo quel passo, dove sto andando, ecco, sto andando a fare qualcosa di buono, sto andando a fare qualcosa di negativo, camminando, eccetera, no? Un'azione, ancora di più, perché un'azione volontaria, come sappiamo dai principi generali della vita interiore, è un atto umano, quindi un atto umano è sempre qualificabile come buono o come cattivo, ecco, come lecito o come illecito, ecco, il massimo che può succedere, dice San Tommaso, per certi gesti, no? come avverto per esempio un prurito, e mi viene da grattarmi, quello è un gesto indifferente, però anche un gesto così indifferente, adesso mi raccomando, nessuno si faccia gli scrupoli, cioè, io potrei anche dire, signore, non mi gratto, sopporto questo piccolo fastidio, per amore tuo, ti offro questa piccolissima mortificazione, si può fare anche con questo, capite? Per dire, Quindi anche un atto, però, non è che se uno, avvertendo un piccolo prurito, compie il gesto inconscio di grattarsi, fa qualcosa di negativo, ordinariamente è un atto inconsapevole, indifferente, ecco, però si può, anche un atto indifferente, si può, come dire, soprannaturalizzare, se uno gli viene l'ispirazione di farlo, no? Ecco, in ogni caso, quello che la vita, l'esperienza, la scuola, mariana, per questo un animo, non può dirsi assolutamente mariana, se non si ispira a queste cose, è l'immedesimazione, con la volontà di Dio, che è il principio, della santità, unico, essere santi, vuol dire essere perfettamente, inseriti nella volontà di Dio, e teniamo sempre presente, che la volontà di Dio, molte volte, è fatta, di piccolissime cose, d'accordo? piccolissime, a cui, possiamo, o non possiamo, come dire, stare, come dire, assecondarci, accomodarci, sì, o no, può essere semplicemente, oggi, per esempio, siamo nella settimana in Albis, potrebbe darsi che uno si attende, non lo so, che la settimana in Albis, possa essere una settimana, come dire, meravigliosa, senza problemi, senza cose, invece, proprio la settimana in Albis, accadono delle cose, dei piccoli, medio, grandi, inconvenienti, che uno comincerebbe subito a pensare, ma come signore, mi è finita la settimana santa, ecco, ma no come signore mio, perché se, se, la settimana in Albis, te manda qualche piccolo inconveniente, o qualche piccola croce, ecco, non si può dire, ma come, ecco, cioè, certo che si può, ma se si dice, si esce dalla divina volontà, ecco, io posso anche, come dire, comprendere, tutti possiamo comprendere, che sarebbe una cosa perfettamente, appunto, comprensibile, ma, se Dio ti chiede altro, ti chiede altro, cioè, ripeto, nel piccolissimo, come nel medio, come nel grande, ecco, tutto quello che dobbiamo imparare ad avere di mira, è la divina volontà, ricordiamo sempre l'esempio molto, molto mariano, del muovere, vi ricordate, un punto d'ago, o uno spillo, se questo è fatto, in stato di fusione, con la divina volontà, quindi lo faccio, perché Dio lo vuole, essendomi fuso con il divino volere, quindi rendendo quell'atto da umano divino, quindi infinito, eterno, immenso, e lo faccio per Dio, e per amore di Dio, quindi per chi è, o il perché, quindi ci sono, attenzione, un atto perfetto, compiuto nella divina volontà, c'ha sempre queste quattro, attenzione, queste quattro, coordinate in cui muoversi, il binario fondamentale, che lo faccio perché Dio lo vuole, e lo faccio nella divina volontà, ma lo faccio per Lui, e per amore di Lui, sempre le cose per amore di Lui, e anche le opere buone, fatte per il prossimo, nei giorni precedenti, nei giorni passati, non ricordo, comunque è stata una meditazione mattutina, noi facciamo le opere buone, anche le più straordinarie, anche le opere di misericordia, principalmente sempre per amore di Dio, cioè le faccio anzitutto, perché Dio lo vuole, perché Dio vuole che si faccia un'opere di misericordia, e per amore suo, quindi vedendo per esempio, le opere di misericordia corporale, quindi quelle fatte, per le situazioni di miseria umana, ma vedendo dietro il povero, dietro il carcerato, dietro il malato, dietro il forestiero, eccetera, eccetera, chi? Gesù. Ogni volta che avete fatto queste cose, su uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Questo Gesù lo spiega da un punto di vista oggettivo, quindi anche se uno non avesse intenzione di farlo per amore suo, lui comunque si identifica con queste situazioni di miseria, e quindi la considera fatta a lui, una cosa di questo genere. Però, per quanto riguarda la meritorietà soggettiva di quell'opera, ci vuole l'intenzione di farla, anzitutto e principalmente per amore di Gesù. Capite? Qualunque piccola cosa. Il Signore guarda il più piccolo fare, sia secondo la sua volontà, che il grande, senza di questo. Non guardare al molto, al piccolo che si fa, ma piuttosto sia voluto da Dio, cioè anche le piccole cose. Certo, questo evidentemente è un processo che va vissuto con calma, senza ansia, cioè non possiamo immaginare, insomma, una persona che cominciasse, insomma, a farsi prendere i patemi, o gli scrupi, comincia a dire, ducco, adesso io devo andare dall'alimentare a prendere la pasta, ma sarà volontà di Dio e comincia, cioè, bisogna, come dire, vivere queste cose, o raggiungere dei livelli che evidentemente si comprenderebbe, ecco, con un po' di buonsenso che diventerebbero eccessivi, no? Però il principio deve essere chiaro e anche se poi è vissuto con grano salis, con intelligenza e soprattutto con calma, però il principio rimane, d'accordo? E questo, diciamo, può bastare per questo primo capitoletto di oggi. Ora andiamo al nono volume, e precisamente al 23 marzo 1910, che contiene un discorso molto delicato, molto bello, molto importante, ma ecco, questo più che mai da prendere ovviamente con intelligenza. Lo leggiamo e poi ci facciamo alcune considerazioni. trovandomi nel solito mio stato e lamentandomi delle sue privazioni. Tenete presente questi, abbiamo letto l'ottavo e il nono volume. L'ottavo e il nono volume diciamo che sono al termine dei primi dieci volumi che rappresentano un po' una grande scuola preventiva, io le chiamo un pochino la scuola dell'obbligo, prima di entrare nel regno del di involere, Quindi, proprio la formazione dell'anima. Però qui già Gesù lo vedremo anche nel brano attuale gira le viti e comincia a raccomandare come dire di non uscire per nessun motivo dalla divina volontà come proprio primo traguardo necessario e imprescindibile da raggiungere. Quindi la scuola dell'obbligo, il diploma, la terza media si prende quando dentro di noi c'è questo fine chiaro e risoluto io per quanto mi è possibile non esco e non voglio uscire mai da dentro la divina volontà non almeno con un atto volontario e consapevole né nel tanto né nel poco. 23 marzo 1910 volume 9 capitolo 32 trovandomi nel solito mio stato e lamentandomi delle sue privazioni Gesù appena l'ha sfuggita è venuto e mi ha detto figlia mia ti raccomando non uscire da dentro della mia volontà perché la mia volontà contiene tale potenza da essere un nuovo battesimo per l'anima anzi più dello stesso battesimo perché nei sacramenti c'è parte della mia grazia nella mia volontà c'è tutta la pienezza nel battesimo si toglie la macchia del peccato originale ma rimangono le passioni le debolezze nella mia volontà distruggendo l'anima e il proprio volere distrugge le passioni le debolezze tutto ciò che è umano e vive delle virtù della fortezza e di tutte le qualità divine mi fermo non è finito l'ho scritto però qui parla del rapporto tra la divina volontà in paragone con il sacramento del battesimo dicevo subito questo è un testo stupendo ma che evidentemente va preso e vissuto con spirito profondamente cattolico che è lo stesso con cui Gesù evidentemente l'ha detto ecco tenete sempre presente una cosa per quanto riguarda la lettura degli scritti di Luisa vale il criterio generale che dovrebbero ricordare anche molti esegeti e molti interpreti sia della sacra scrittura che della legge della chiesa cioè quando mi trovo dinanzi a un testo forte o potenzialmente ambiguo il primo canone interpretativo ad utilizzare è questo testo va letto interpretato alla luce del magistero autentico della chiesa d'accordo immaginate la sacra scrittura no uno si imbatte nei testi di Marco mi sembro di Luca che dicono che Gesù aveva quattro fratelli i cavalli di battaglia dei testimoni di Geova no ecco allora un povero sproveduto che magari si mette a leggere il Vangelo si imbatte in quel brano dice Gesù c'ha quattro fratelli allora la Madonna non è vergine subito il pensiero ecco quel pensiero è il primo che ti toglie dalla mente perché siccome la chiesa insegna che la Madonna è perpetuamente vergine vuol dire che quel Vangelo anche se ti sembra smentire questa cosa sicuramente c'ha una lettura non immediata non diversa che quella cosa non la può smentire è la prima cosa questa qui perché voi capite anche la Sacra Scrittura quindi non parliamo questo questo è uno scritto privato questa è una rivelazione privata se tu la interpreti ecco perché non è condivisibile e la chiesa non l'ha mai condiviso pur nella sua apertura voi sapete che l'esegesi scientifica cosiddetta io sono sempre molto molto critico nei confronti di questi termini contemporane nel cosiddetto metodo storico critico come dire analizza la Sacra Scrittura con la base dei criteri delle scienze ermeneutiche umane quindi dice no adesso bisogna prescindere da qualunque posizione confessionale perché dobbiamo capire quello che dice il testo in se stesso allora questo principio lo si può accogliere ma per noi cattolici lo si può accogliere con molte pinze d'accordo perché per un esegeta cattolico quindi di prescindere completamente dalla posizione confessionale non solo che non si può ma non si deve capito perché la Sacra Scrittura esiste nella Chiesa ma è stata la stessa Chiesa a dirci che questa è parola di Dio perché noi sappiamo che il Vangelo di Marco è un Vangelo ispirato a differenza del Vangelo di Giacomo che esiste ma è un Vangelo apocrifo perché perché la Chiesa che ci ha detto quali sono i testi ispirati e quali quelli non ispirati quindi capite la Sacra Scrittura come tutti sanno e come dire ha avuto una sua definizione dentro la tradizione con la T maiuscola della Chiesa e quindi è chiaro che io per quanto devo cercare e in questo dobbiamo essere come dire in un certo senso grati agli apporti della scienza contemporanea di capire bene il testo in quanto tale ma non posso non posso prescindere dai dati rilevati non si può per esempio dire una cosa cioè che capite io lessi una volta non mi ricordo ascoltai una cosa che è assolutamente inaccettabile per un per un credente dice avete visto quando Gesù dice che dice non sarà data a questa generazione nessun altro segno se non è il segno di Giona oppure quando fa riferimento a Giona dice come Giona rimase tre giorni e tre notti in una balena nel ventre del pesce così il figlio dell'uomo rimarrà che poi non c'è rimasto realmente ma questo è un altro problema tre giorni e tre notti nel ventre della terra d'accordo allora voi sapete c'è una parte dell'esegesi razionalisteggiante che dice che secondo loro Giona non sarebbe esistito cioè che il libretto di Giona non è attribuibile al personaggio storico Giona profeta che secondo loro non è così non sarebbe esistito e quindi quello certo è parola ispirata è parola di Dio però è una favoletta parenetica quindi scritta allo scopo dell'insegnamento che produce l'insegnamento che produce è che tu devi fare la volontà di Dio e non come Giona che anziché fare quello che Dio voleva se ne andava dalla parte opposta e poi in qualche modo ci è stato riportato per forza di cose allora l'obiezione è che Gesù nel Vangelo ha citato Giona e ha citato il caso di Giona non come una favoletta ma come il caso successo di una persona esistente e io senti dire e beh ma Gesù era figlio del suo tempo e quindi siccome a quel tempo pensavano che Giona era esistito anche Gesù pensava che era esistito e dico momento 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 perché Gesù era figlio del suo tempo ma era figlio di Dio vissuto nel suo tempo quindi non potrebbe mai neanche come dire per compiacenza assecondare una 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 menzogna no e dice ma no ma tu avanzi il motivo confessionale che Gesù Cristo è figlio di Dio ma non posso non avanzare il motivo confessionale che Gesù Cristo è figlio di Dio perché il fondamento della mia fede è che Gesù Cristo è figlio di Dio quindi perché tutte quante queste come dire precisazioni perché qui Gesù fa un'affermazione grossa dice che la sua volontà contiene una tale potenza da essere un nuovo battesimo per l'anima addirittura anzi più dello stesso battesimo cioè una frase del genere è una bomba atomica a propulsione ultranucleare insomma no ecco è chiaro il senso corretto in cui intendere questa frase perché Gesù stesso la spiega e con la spiegazione è una frase meravigliosa bellissima no perché che fa proprio capire proprio un uno un surplus cioè come in effetti la divina volontà porti a compimento il sacramento del battesimo per certi aspetti Gesù lo spiega cioè allora il battesimo sappiamo che ci toglie il peccato originale e perché non ci riporta allo stato di Adamo ed Eva scusa se ti toglie il peccato originale ed è una verità di fede e ti infonde la grazia santificante come mai che dopo il battesimo rimangono le passioni rimangono le debolezze rimangono rimane la concupiscenza come Santa Madre Chiesa insegna e noi abbiamo bisogno dei sacramenti abbiamo bisogno della confessione frequente abbiamo bisogno della comunione abbiamo bisogno della preghiera abbiamo bisogno di combattere di lottare perché se no combiniamo un sacco di guai pure se siamo battezzati perché il sacramento del battesimo è una partecipazione piena della grazia santificante ma con gli effetti volutamente limitati dipendenti dalla divina volontà che questo sacramento ha d'accordo perché questo è il sacramento del battesimo quindi viene tolta la macchia d'origine viene infusa la grazia santificante vengono infuse insieme alla grazia santificante le tre virtute rogali le quattro virtute rogali ma le ferite e le conseguenze del peccato originale rimangono ora noi sappiamo l'abbiamo visto anche recentemente quando un'anima vive nella divina volontà cosa succede succede che le passioni perdono di forza cioè non succede semplicemente quello che succede nella vita di grazia cioè tu stai in grazia di Dio ti vengono i 5 minuti e ti viene ad arrabbiarti contro tizio allora ti contrattieni e ti mangi prima la lingua e poi fai così e dici non mi devo arrabbiare perché l'ira è un vizio capitale buono fermi tranquilli cerchiamo di essere pazienti è capace che vinci se hai vinto hai fatto un grande atto di virtù e hai progredito nella santità perché perché hai dominato la violenza della passione dell'ira che ti porta ad arrabbiarti perdere la pazienza a inveire contro il prossimo e non lo fai la promessa che è legata dalla vita nel divino volere non è semplicemente questa ma è che quando sarai giunto a un grado di fusione tale che la divina volontà vive in te le passioni saranno distrutte per cui tu il moto dell'impedo violento dell'ira non lo senti questo sta scritto in questi scritti figlioli miei cari quindi se qualcuno lo comincia a vivere lo può testimoniare ma l'italiano nella mia volontà distruggendo l'anima il proprio volere distruggere le passioni le debolezze e tutto ciò che è umano avete visto quanti peccati si commettono per debolezza non per malizia la chiesa questo l'ha sempre insegnato che ci sono i peccati commessi per malizia che sono quelli in cui la volontà è cattiva e sono quelli che sono peccati proprio in senso stretto quindi quando una persona sa che sta facendo un peccato dice chi se ne importa lo faccio lo stesso fosse anche dire soltanto una bugia che le bugie non si dicono anche se sono l'emblema del peccato veniale invece un peccato commesso per debolezza è perché avrei so che avrei dovuto fare diversamente lo so che mi sarei dovuto mozzicare la lingua lo so che quando stavo pregando non avrei dovuto assecondare quel pensiero che mi distraeva ma purtroppo non ce l'ho fatta e ho fatto diversamente questo non è una cosa fatta con malizia ma è una cosa fatta per debolezza e di tutta questa roba qui abbiamo un repertorio infinito capito per cui anche una confessione fatta di devozione se uno volesse farla bene andando a vedere tutte quante le proprie miserie le proprie debolezze non finirebbe più di andare a raccontare tutto no ecco allora che cosa dice Gesù attento il battesimo è un grandissimo sacramento ed è un sacramento indispensabile cioè l'interpretazione è balorda di questa frase ha visto Gesù che ha detto la divina volontà è più grande del battesimo quindi il battesimo non serve più basta che un'anima vive nella divina volontà cioè immaginate qualche matto se andasse a leggere o a divulgare una roba di questo genere quale danno enorme che farebbe alla divina volontà ma non c'è scritto questo c'è scritto che il battesimo è un grandissimo sacramento ed è fondamentale indispensabile il termine nuovo battesimo è evidentemente usato da Gesù in senso metaforico perché il battesimo è uno solo professo un solo battesimo per il perdono dei peccati il dire più dello stesso battesimo Gesù lo spiega anche nel battesimo la grazia quindi il mare di grazia che Gesù ci ha ottenuto con il suo sacrificio redentore non è comunicato in tutta la sua pienezza perché nel battesimo c'è una grande comunicazione della grazia perché vengono rimessi tutti i peccati e tutte le pene dovute per i peccati a differenza che nel sacramento della confessione che rimette la colpa senza rimettere la pena per questo che dobbiamo fare la penitenza dei peccati compiuti dopo il battesimo quindi ma nonostante che nel battesimo ci sia come dire ci sia come dire la massima esplosione della comunicazione della grazia non è ancora in maniera perfettissima perché rimangono le debolezze le conseguenze del peccato originale quando spariscono queste quando l'anima vive nel divino volere e quindi si può dire che è una sorta di nuovo battesimo e che è più del battesimo perché produce il dispiegamento massimo possibile della grazia in una creatura dopo la colpa d'origine e questo è esattamente quello che in cui consiste il regno della divina volontà il riportarci allo stato l'abbiamo visto nelle catechesi della prima parte e della seconda parte di questo ciclo di catechesi che è il riportare l'anima alla condizione di Adamo in che senso non nel senso che siano sparite le prove le tribolazioni per questo non spareranno mai ma nel senso che insieme al peccato d'origine spariscono anche quelle conseguenze negative che nella nostra vita personale continuano incessantemente a portarci a spingersi a piegarci verso il male rendendo veramente il compito della santità un'impresa titanica quasi eroica ecco immensa insomma ecco questo per quanto riguarda la prima parte nella seconda Gesù va ancora oltre riprendo la lettura dello stesso scritto io nel sentire ciò dicevo tra me ironia di Luisa no da qui a poco dirà che la sua volontà è più della stessa comunione quindi dice ah mo la sparata grossa Gesù ha detto che Gesù che ha detto che la divina volontà è il nuovo battesimo più grande del battesimo dice mo scommetti che la spara più grossa ancora mo mi andrà a dire che la divina volontà è più che la comunione sacramentale Gesù non ha detto no sentite la la risposta e lui ha soggiunto certo certo la divina volontà è più grande della comunione sacramentale certo certo perché la comunione sacramentale dura pochi minuti la mia volontà è comunione perenne anzi eternale e che si eterna nel cielo prima differenza seconda la comunione sacramentale è soggetta a qualche intoppo o per malattia o per necessità o per parte di chi la deve amministrare mentre la comunione della mia volontà non è soggetta a nessun impiccio solo che l'anima la vuole e tutto è fatto nessuno può impedirle un sì gran bene che forma la felicità della terra e del cielo né i demoni né le creature né la mia stessa onnipotenza impressionante l'anima è libera nessuno ha diritto su di lei a questo punto della mia volontà perciò io la insinuo voglio tanto che la prendano le mie creature è la cosa che più mi importa e che più mi sta a cuore tutte le altre cose non mi interessano anche le più sante e quando ottengo che l'anima viva della mia volontà me ne vado trionfante perché racchiude il più gran bene che ci può essere in cielo e in terra cioè io non so le impressioni che uno riceve nell'ascoltare questo brano anche questo brano ripetiamo tutto quello detto precedentemente è evidentissimo che va ascoltato con grano salis capito? ecco cioè Gesù non sta certamente dicendo che non serve fare la comunione sacramentale la comunione sacramentale è ordinariamente la massima unione possibile che si possa avere con Gesù sulla terra va praticata il più spesso possibile e soprattutto al meglio possibile perché non basta andare ad accostarsi a prendere e ricevere le particole consacrate per poter fare una buona comunione la buona comunione molto dipende dal ricettore quindi da come chi si accosta alla comunione è preparato a riceverla sia con la preparazione remota con la custodia della vita di grazia con la confessione sia con la preparazione prossima quindi con il prepararsi immediatamente interiormente ed esteriormente a ricevere la santa comunione il ringraziamento che viene fatto dopo eccetera quindi ci sono tutta quanto una serie di condizioni che determinano la qualità diciamo così e l'efficacia della nostra comunione sacramentale fermo restando che se un sacerdote consacra validamente un ostia quando andiamo a prendere la comunione noi realmente facciamo comunione con Gesù ecco però gli effetti che produce la comunione Gesù spiega sono variamente soggetti a limitazione variamente oltre a queste limitazioni dipendenti per esempio dal soggetto che la riceve ce ne sono altre da un punto di vista oggettiva la comunione sacramentale è soggetta qualche intoppo o per malattia per esempio sto male non posso andare in chiesa non posso ricevere la comunione no pensate i malati e gli anziani che nelle parrocchie ricevano la comunione per esempio una volta al mese quando il primo venerdì il parroco gli porta la santa comunione e magari io conosco alcune anime anche qui devotissime che prima che stessero impedite andavano a messa tutti i giorni adesso a messa tutti i giorni non ci possono andare perché sono 95 anni non si reggono più in piedi quindi la comunione sacramentale non la posso ricevere per malattia d'accordo ci può essere qualche altro intoppo certo che ci può essere qualche altro intoppo sta male il parroco e la messa non viene celebrata d'accordo ecco per necessità o per parte di chi la deve amministrare quindi ci sono varie possibili difficoltà impedimenti o circostanze che inibiscano in tutto in parte o in parte la potenza della comunione sacramentale in ogni caso la comunione sacramentale questa è dottrina anche questa ufficiale della chiesa cioè da quando io ricevo l'ostia consacrata tempo 15 minuti la presenza reale di Gesù quando le specie si sono consumate si dissolve quindi certamente rimangono gli effetti della comunione sacramentale ma la presenza reale di Gesù nella mia anima cessa con la consumazione delle specie e questo come Gesù spiega dura pochi minuti altro grosso problema di oggi è che un sacco di gente che va troppo frettolosamente a fare la comunione e poi il sacerdote magari chiude rapidamente la santa messa quindi due minuti dopo che hanno ricevuto la comunione già dalla benedizione magari non ha la buona e lodevole abitudine di fare un po' di preghiere con la comunità al termine della messa e una persona come dire grossolana scellerata e Pia se ne esce dalla chiesa dopo due minuti che ha fatto la comunione e sta comunione non solo che non produce grandi effetti ma qui c'era un film di Benigni che faceva altri anni fa dice qui andiamo nel penale d'accordo cioè qui non è semplicemente un inibire l'effetto della comunione qui andiamo nella peccaminosità capito perché tu ti porti a spasso è come se fosse nulla Gesù Cristo perché due minuti dopo che il prete era benedetto Gesù Cristo è ancora presente in te quindi non soltanto qui se non fai ringraziamento c'è un problema di limitata efficacia della comunione ma qui si può andare a fare un peccato sopra perché a mio modestissimo avviso portarsi a spasso Gesù Cristo quindi uscire con l'oste consacrata ancora neanche ben deglutita insomma dentro della Chiesa non è come dire una quisquilia insomma una finezza non fatta nei confronti del Signore è un po' peggio secondo me ora è diverso il caso di chi poverino non sa quello che fa quindi anche se insomma non sapeva quello che fa un minimo insomma cerca un attimo di 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 arrivarci però magari uno veramente non sa quello che fa è proprio grossolano vabbè però già uno che sente una buona catechesi sull'eucaristia dopodiché non corregge le proprie mazzane abitudini e fatta la comunione via se ne esce beh insomma lì a quel punto l'esenzione da peccato e neanche troppo leggero penso che sia un pochino più difficile ecco quindi la comunione sacramentale come si vede anche ecco perché io tante volte ho detto in tante tante catechesi no cioè lungi cioè ci ho fatto recentemente allora la chiesa straraccomanda la comunione frequente domenicale ma anche Gesù stesso è pieno di gioia e di felicità quando è degnamente e devotamente ricevuto da un suo figlio però non bisogna fare della comunione sacramentale una sorta di panacea nel senso che se uno non la fa cioè fino al punto di andare come dire a doversi per forza inventare qualcosa di assolutamente improbabile quando ci sono delle condizioni ostative invincibili che impediscano l'accesso alla comunione sacramentale ecco capite perché è pur sempre un sacramento d'accordo per cui un sacramento dispiega la propria efficacia questa è teologia dogmatica vincolante perché fa parte del magistero autentico della chiesa a seconda delle disposizioni di chi la riceve perché se tu te comunichino stai in stato di grazia fate tutte le comunioni che te pare d'accordo quella comunione non te fa niente di bene fai soltanto il sacrilegio più grosso che possa esistere sul pianeta terra d'accordo e per stare in stato di grazia devi esserti confessato con sincero pentimento non ripeto ho fatto fiumi di catechesi su questi argomenti tutti i peccati gravi di cui ti ricordi e se stai commettendo qualche peccato grave non basta che tu vai come un automa a confessarti sempre le stesse cose se non ci sono dei reali miglioramenti dei reali propositi di conversione perché se no sacrilega la comunione e nulla la confessione se non c'è un pentimento sincero questo l'ho già ripeto spiegato fino all'anausi in tantissime catechesi per cui ecco chi volesse approfondire non tarderà non farà difficoltà se vuole un approfondimento del sottoscritto a trovare un sacco di catechesi su questi argomenti sui miei canali no ecco quindi la divina volontà invece dice Gesù non è soggetta a nessun tipo di impiccio né impedimento nessuno stai male benissimo la malattia è divina volontà unisciti e stai tranquillo stai bene benissimo d'accordo quindi solo che l'anima la voglia fare la vuoi fare la divina volontà sì o no benissimo basta basta ecco perché ecco il senso profondo no solo che l'anima la vuole e tutto è fatto ora certamente volerla non è semplicemente dire va bene voglio fare la divina volontà e tutto è fatto abbiamo visto in tante catechesi precedenti insomma che cioè a questo lo voglio poi segue l'esecuzione de lo voglio d'accordo non è così ecco automatico però nessuno può impedire non si ingra bene che forma la felicità della terra e del cielo chi ci può impedire di fare la divina volontà c'è qualcuno che può impedirci di fare la divina volontà se io liberamente scelgo di farla chi chi può impedirmelo nessuno che il confessore ti può impedire di fare la divina volontà che il papa ti può impedire di fare la divina volontà il parroco ti può impedire di fare la divina volontà chi 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 è che può impedircelo nessuno nessuno non ci sono le catastrofi naturali assolutamente no anzi le catastrofi naturali sono un'occasione di prova di come di quanto sono unito alla divina volontà se sono capace di dire fiat anche a una catastrofe naturale che dovesse colpirmi anche a una disgrazia che dovesse colpirmi una malattia a me o a una persona cara non sono impedimenti a fare la divina volontà sono occasioni per esercitarsi aggiungere ad unirsi alla divina volontà fino a gradi di supereroismo come ha fatto la madonna la settimana scorsa l'abbiamo contemplato durante le circostanze della passione della morte di Gesù altro che che fiat che ha ridetto insomma sotto la croce mentre Gesù soffriva quando Gesù moriva quando lo trovava in braccio quando la deposto nel sepolcro quando l'ha aspettato per tutto il sabato santo conservando la fede ma dentro uno strazio del cuore pazzesco quindi nessuno può impedirle di fare la divina volontà chi è che può impedirci di fare la divina volontà sono noi stessi la non volontà di farla cioè la divina volontà può essere impedita solo dalla nostra volontà non c'è nessun altro tipo di impedimento possibile ecco perché io dico sempre e ribadisco che il percorso della divina volontà dovrebbe essere fatto da tutti se non altro perché è a mio modestissimo avviso la cartina torna sole delle reali intenzioni dell'anima cioè tu vuoi fare quello che Dio vuole oppure no vuoi diventare santo oppure no capito cioè non è una cosa di cui devi rendere conto né al padre spirituale né al confessore né al parloco né al vescovo a nessuno è una cosa che riguarda te capito voglio veramente diventare santo punto interrogativo credo veramente che non esiste santità se non nella volontà di Dio punto interrogativo credo veramente che l'unico ostacolo a una santità autentica è ogni forma di esercizio autonomo indipendente della mia volontà nei confronti di quello di Dio sì o no questo è un tipo di dialogo è anche un tipo di scelta che avviene tra la creatura e il creatore senza mediatori in questo non ci stanno i mediatori in senso buono e questo passaggio è fondamentalissimo perché se è vero che se in questa scelta non ci sono mediatori in ogni caso per il cammino di santificazione i mediatori sono necessari e le mediazioni sono necessarie per cui il cammino di santità si percorre nella chiesa in comunione con la chiesa si percorre con la mediazione della rivelazione con la mediazione del magistero con la mediazione dei sacramenti con la mediazione della guida apostolica e tutte le altre mediazioni che esistono però la scelta di fondo la devi fare tu e uno può ed è frequentissimo che accada fare una vita come dire tra virgolette esternamente apparentemente di santità quindi frequenti sacramenti manifesta comunione con la chiesa con i pastori con tutto quello e in realtà il suo cuore è completamente alieno e distante da dio e dal suo volere come dimostra inesorabilmente alla comparsa di alcune prove del nove quindi Gesù dice l'anima è libera nessuno ha diritto su di lei a questo punto della mia volontà cioè il mondo della divina volontà pone l'anima ed è una cosa bellissima dinanzi alla sua sovrana libertà che dio rispetta però che vuole che noi ne prendiamo coscienza e che la esercitiamo liberamente volontariamente e autenticamente cosa voglio fare della mia vita l'anima è libera nessuno ha diritto su di lei a questo punto della mia volontà e io giungerei su questo punto della mia volontà e non c'è possibilità di inganno capito perché se tu ti metti dinanzi al signore davanti al signore tu non gli puoi mentire non puoi dire al signore sì sì io voglio fare la tua volontà e dentro di te pensi che lo fa di testa tua perché questo puoi farlo dinanzi a un uomo ma davanti a dio no perché dio lo sa quello che c'è nel tuo cuore conosce le tue intenzioni quando Gesù dice di non giudicare mai le persone perché noi non possiamo conoscere mai con certezza le intenzioni profonde di una persona perché la persona può mentire a noi può dire io sto nel perfetto buona fede ma io e invece non è vero e noi non possiamo saperlo o viceversa d'accordo può sembrare che ci fosse un disastro che fosse una cattiva volontà ma la fede invece quel poveraccio quella persona pensava realmente di fare una cosa fatta bene e questo dio lo sa con certezza magari te lo dice tu non ci credi perché tutte quante le circostanze sembrano dimostrare il contrario e hai tutto il diritto di non crederci perché purtroppo l'uomo può mentire e dentro la coscienza non ci può leggere nessuno a meno che non ci abbia le donne straordinarie come padre Pio però su questo punto c'è l'anima e Dio ed ecco perché Gesù dice perciò la insinuo e voglio tanto che la prendano le mie creature ed è la cosa che più mi importa che più mi sta a cuore sono parole grosse queste qua cioè Gesù dice tutte le altre cose non mi interessano neanche le più sante quindi la cosa che Gesù ti interessa più di tutti è che tu ti metti dinanzi al mondo della divina volontà e dici cosa voglio fare dinanzi a tutto questo voglio prendere tutto questo oppure no perché dalla risposta a questa domanda dipende tutto dipende dipende veramente tutto voglio io entrare in questo mondo oppure no voglio relazionarmi con questo mondo oppure no tutte le altre cose non mi interessano neanche le più sante e quando ottengo che l'anima viva della mia volontà me ne vado trionfante attenzione perché racchiude il più grande bene che ci può essere in cielo e in terra capite quanto è grande io penso che questo brano rettamente da intendere quindi dove Gesù fa questi paragoni arditissimi e ripeto da intendere cattolicamente dentro quel parametro interpretativo fondamentale che ho detto all'inizio di questa catechesi però è veramente tantissima roba tantissima e penso che questo forse più degli altri brani ci fa comprendere la portata e la grandezza di cosa sia il dono della divina volontà detto questo auguro a tutti una santa prosecuzione della settimana in Albis do a tutti la mia benedizione ci vediamo se Dio vuole su questi su queste frequenze della prossima puntata vi benedico Ave Maria